Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi come ogni venerdì parliamo di solo cose belle. Visto che ieri vi ho elencato le meraviglie della mia regione, del mio Veneto, invitandovi a venire a scoprirle, oggi sentivo un po' la nostalgia di luoghi un po' più lontani, un po' più esotici e ne approfitto di un articolo che ho letto sul mensile Cosmopolitan in cui vengono elencate le 20 spiagge più belle del mondo perché alla fine sognare non costa nulla. Fino a quando non potremo tornare a scoprire questi paradisi tropicali non ci resta appunto che sognare ma possiamo iniziare ad organizzarci per poi essere prontissimi una volta che apriranno le frontiere e potremo tornare a viaggiare anche in queste mete da sogno. Tra l'altro questa classifica mi ha galvanizzato non poco perché al primo posto c'è una spiaggia che ho visitato personalmente e quindi sono super 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 felice finalmente che ci sia una classifica dove posso dire che conosco il primo posto, l'ho visto e posso assicurarvi al 100% che è una roba pazzesca, incredibile che dovete assolutamente mettere nella lista dei luoghi da vedere almeno una volta durante una delle vostre vacanze. Metto già le mani avanti dicendovi che non vi racconterò tutte e venti queste spiagge altrimenti diventa un video più lungo di via col vento ma facciamo un countdown delle prime cinque posizioni e poi le altre ve le metto come foto in modo che possiate comunque vederle e iniziare a pensare qual è quella più adatta al vostro viaggio. La tecnologia mi aiuta e con questo nuovo filtro fighissimo di instagram finalmente posso mettere gli sfondi e quindi questa è la foto della spiaggia che si trova al quinto posto di questa classifica e cioè la spiaggia dell'isola di Koh Ong in Thailandia. Quest'isola si trova all'interno del mare delle Andamane nella zona tra Phuket e Krabi quindi è perfetta durante il nostro periodo invernale. La particolarità delle spiagge thailandesi e quindi anche di quest'isola come potete vedere alle mie spalle è il colore verde smeraldo dell'acqua quindi in Thailandia non aspettatevi l'acqua cristallina azzurra ma mille sfumature di verde quindi da non perdere mi raccomando. La Thailandia a me piace tantissimo è uno stato che permette di fare un viaggio veramente completo tra natura, archeologia, storia, cultura, modernità, cose più antiche e soprattutto vi dà la possibilità di visitare queste spiagge. Ci spostiamo ancora più ad est per la quarta posizione e cioè in Australia nel northern territory quindi nella parte nord si affaccia a questa meravigliosa spiaggia che si chiama Lonely Beach, una spiaggia selvaggia, tropicale che già dal nome vi fa capire che qui distanziamento sociale ce n'è veramente tanto. Tra l'altro la spiaggia è raggiungibile solo con un'escursione che viene organizzata dalla popolazione aborigena locale quindi oltre a portarvi a visitare la spiaggia e il suo bellissimo mare vi racconteranno, vi spiegheranno anche tanto della cultura aborigena australiana che è veramente affascinante e come sappiamo unica al mondo quindi durante il viaggio in Australia inserire assolutamente Lonely Beach. Parliamo di spiagge più belle del mondo ovviamente dobbiamo nominare anche le Maldive e infatti al terzo posto troviamo l'Atollo di Ba che è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio mondiale della biosfera proprio per la sua flora, per la sua fauna. Qui si può tuffarsi in queste lagune turchesi meravigliose che confinano poi con l'oceano blu intenso dove appunto la barriera corallina è ancora spettacolare, dove si possono conoscere e incontrare tantissime specie diverse di pesci, di coralli, veramente un tuffo dove l'acqua è più blu per citare una canzone famosa. Comunque nell'Atollo di Ba ci sono tantissime isole e su ogni isola troviamo un resort di lusso o anche di un po' meno lusso. Non pensate che per andare alle Maldive bisogna per forza spendere delle cifre folli. Si può organizzare una vacanza splendida spendendo il giusto, quello che comunque queste isole vi possono offrire è assolutamente un mare e una natura unica, vi sentirete veramente circondati da un paradiso terrestre vero e proprio. Secondo posto ci spostiamo ai Caraibi e troviamo una delle spiagge giamaicane più belle in assoluto, cioè Frenchman's Cove. Questa spiaggia è protetta da scogliere da entrambi i lati e ha questa acqua azzurrissima con delle sfumature addirittura tendenti al verdi, soprattutto nella zona in cui la vegetazione è più fitta e si può veramente rilassarsi all'ombra di questi alberi, di queste palme, di questa appunto fitta vegetazione. La spiaggia è bianchissima, spiaggia come borotalco per darvi veramente delle giornate di relax totale e assoluto, perché anche la Giamaica, così come tutti gli altri Caraibi, offre veramente dei posti paradisiaci, ma alla fine ve le sto dicendo tutte come se fossero posti paradisiaci, ma perché in realtà lo sono veramente, quindi la Giamaica non tenetela in considerazione solo per Bob Marley e tutta quella cultura, ma soprattutto per le sue splendide spiagge e il suo mare pazzesco. Pollo di Tamburi, la prima posizione è occupata da Playa Rincon in Repubblica Dominicana e questa foto ragazzi è mia, l'ho fatta io, non l'ho presa da Google, questa è proprio una mia foto e quindi questo è quello che io ho visto con i miei occhi quando sono andata a novembre a Santo Domingo e mi hanno accompagnato a visitare questa spiaggia paradisiaca, ancora una volta, sì paradiso veramente, 5 chilometri di spiaggia, sabbia bianchissima, fina 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 come borotalco, come farina, una vegetazione strepitosa con palme da cocco altissime, la possibilità di fare lunghe passeggiate e di fare dei bagni spettacolari in questa acqua qui che vedete, azzurrissima, dove si può fare il norkeling e dove c'è una zona della spiaggia dove c'è un po' di più vento, un po' di più onde, si può fare anche surf, io surf non l'ho fatto, mi sono spaparanzata lì e ho goduto di questo posto incredibile, di questa spiaggia e di queste acque pazzesche, veramente uno dei posti, una delle spiagge più belle che io abbia mai visto. Tra l'altro la spiaggia di Playa Rincon non si trova nella costa meridionale della Repubblica Dominicana, ossia nella zona di Baia Ibe che è quella un po' più turistica, più frequentata, ma si trova da tutt'altra parte, dalla parte opposta, quindi sulla costa settentrionale nella penisola di Samanà che è un po' meno turistica, quindi dove trovate meno gente e anche dove la costa e la natura sono veramente ancora incontaminate, quindi qui riuscite secondo me a vivere la vera esperienza della Repubblica Dominicana ancora più autentica, piuttosto magari della zona di Baia Ibe o di Punta Cana che sono veramente veramente molto molto turistiche e molto anche americanizzate. Quindi Samanà è veramente un posto da urlo per chi cerca relax, per chi cerca natura e per chi cerca la possibilità di fare delle escursioni strepitose sia via mare sia via terra. Faccio finta di essere ancora sotto le magnifiche palme della Repubblica Dominicana che in foto veramente non rendono, forse sono la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto di Santo Domingo perché sono veramente bellissime, emozionanti oserei dire. Tra l'altro le palme ovviamente si trovano come vi ho detto a Playa Rincon ma poi sono disseminate su tutte le spiagge e anche nell'hotel dove ho alloggiato io che era il Sette Mari Balance Club Viva Vì Samanà che vi consiglio assolutamente perché io sono stata da Dio e si mangia bene, è pulito, c'è una spiaggia pazzesca, il mare davanti dove si possono fare dei bagni strepitosi, veramente l'assistenza, tutto quindi un'ottima struttura che si trova appunto a Samanà quindi che vi permette di fare delle bellissime escursioni poi sia con le barche come vi dicevo oppure anche di raggiungere tante spiagge incontaminate via terra. Per oggi ho finito, spero che vi sia piaciuto il mio nuovo layout con gli sfondi a tema, tra l'altro c'era stato qualcuno di voi che mi aveva suggerito ancora in tempi non sospetti di provare a fare una cosa del genere però Instagram non lo permetteva ancora e non mi ero comprata lo sfondo verde, adesso c'è questo nuovo filtro fighissimo che vi consiglio di usare e di provare anche voi. Buon ultimo weekend di agosto, godiamocela sempre, mi raccomando approfittiamone, vi auguro una splendida giornata, uno splendido venerdì, ci vediamo di nuovo lunedì con le stories, un bacione a tutti, fate i bravi e godetevela sempre di nuovo, ve lo ripeto, ciao ciao!